Oggi vediamo come si costruisce il nodo per collegare la corda di cordata all'imbragatura che si chiama 8 o nodo delle guide con frizione. Prima di tutto dobbiamo partire dal capo della corda. Come misura, per avere la misura, facciamo questo tipo di lavoro. Braccio teso, arriviamo alla fine della spalla all'altezza del collo. Presa questa misura facciamo questo tipo di lavoro, un giro, due giri, infiliamo la corda dei due giri all'interno di questo anello che io ho creato e vedete che si è creato un 8, si chiama anche così per quello. Dopodiché prendo il capo, lo infilo all'interno dei due anelli passacorda che ci sono nell'imbragatura, anche all'interno di questa fettuccina che serve per evitare che la mia corda vada troppo in giro. Dopodiché io cosa faccio? Con il capo che esce inseguo la corda che è entrata ripercorrendo la stessa strada in uscita cercando di mantenere le corde parallele, disegnando un 8 parallelo a questo. Quindi infilo qua dentro, vedete che la corda fa questa strada parallela, dopo di che io faccio questo tipo di lavoro. Vedete che qua adesso le corde, poi dopo lo tensiono in questo modo, deve esserci in uscita un avanzo di circa una spannetta per sicurezza perché quando viene tensionato si mangia un po' di corde. Vedete che io qua ho un facile controllo di tutto il parallelismo e di tutti i passaggi. Questo qua è l'otto, il nodo delle guide con frizioni con cui ci colleghiamo la nostra corda di cordata all'imbragatura.